Termina 0-0 fra Catanzaro e Cremonese, il big match dell'ultima giornata giocata ieri in Serie B, un match bello, molto bello direi, una partita che come ha ripetuto più volte il telecronista che ha commentato a Sky, Bruno Palermo, era una partita in cui 0-0 è stato veramente un caso, perché comunque entrambe le squadre hanno creato tante occasioni da rete, sia nel primo tempo sia nel secondo tempo, pali, occasioni sprecate, bravura dei portieri, specialmente fu lignati nel primo tempo a respingere un colpo sicuro praticamente di Pichel, Quindi una partita veramente molto molto bella, che è stata piacevole anche da vedere, da guardare, il cui esito è stato indeciso fino al termine, venendo alla gara in sé, è una gara che dal punto di vista numerico dice che il Catanzaro interrompe la striscia di due sconfitte consecutive interne, non riesce ancora a vincere in casa, si sapeva ovviamente che i giallorossi erano attesi da un po' di parete complicate, così come quella di Como, quella di ieri contro la Cremonese, la prossima interna al Ceravolo contro il Venezia, E' un pareggio in cui lo 0-0 vuol dire che per la decima volta in questa stagione il Catanzaro non prende gol, la sesta in casa, per l'ottava volta invece i giallorossi non vanno a segno, Per la terza volta in casa, in casa non si erano segnati contro il Parma, contro la Reggiana nella sconfitta per 1-0, e poi ieri contro la Cremonese, e direi che il Catanzaro, palle e gol, ne ha avute veramente tante per sbloccarla, per segnarla, forse sembra strano, Contro una neopromossa contro una squadra che viene dalla Serie A, contro una squadra che è stata costruita per ritornare in Serie A, e che probabilmente fallirà poi l'accesso in Serie A, almeno dal punto di vista diretto, Chi forse deve recriminare un po' di più è il Catanzaro, è il Catanzaro che ha avuto forse più palle e gol, e soprattutto l'ultima, l'ultima al 91esimo, è qualcosa di clamoroso, E probabilmente il Catanzaro continua ad avere una sorta di credito con i minuti di recupero, così come contro il Como, quel gol annullato per veramente questioni di millimetri dal VAR, Ieri invece il gol il Catanzaro l'aveva quasi fatto al 91esimo, con stop il cui tiro davanti alla porta è andato clamorosamente fuori, Per non parlare della traversa di Ambrosino contro il Modena, quella famosa traversa, e poi c'era stato il gol dei Canarini, praticamente, con il capovolgimento di fronte, Ecco, il Catanzaro continua ad avere una sorta di credito con i minuti di recupero delle partite. L'occasione di stoppa, l'occasione di stoppa è capitata forse sui piedi di un calciatore che non sta vivendo sicuramente la sua migliore stagione, Un calciatore, ecco, se fosse capitato su piedi diversi, forse l'esito sarebbe stato differente. Ecco, però da lì mi viene da, non da assolvere stoppa, certo, mi potrete dire che i gol li ha sbagliati chiunque, Hanno sbagliato calciatori di qualsiasi rango e di qualsiasi tipo, mi viene in mente Bob Bovieri contro la Corea, Mi viene in mente giocatori come Cristiano Ronaldo, come me, chiunque ha sbagliato gol, praticamente, già fatti. Però, ovviamente, quando poi capita in casa tua, assume tutto un altro rilievo, tutto un altro significato. Il gol eventuale di stoppa, cosa avrebbe significato? Avrebbe significato tantissimo per il Catanzaro. È un gol, è un'occasione veramente sprecata, su cui bisogna un attimino concentrarsi e su cui non bisogna più di tanto sorvolare. Perché? Perché il Catanzaro l'avrebbe vinta con la partita 1-0, perché si sarebbe portato a meno uno dalla Cremonese, quarti in classifica, e perché la Cremonese è attesa dalla gara contro il Venezia e dalla gara contro il Parma, due partite potenziali dove i Grigiorossi potrebbero anche steccare entrambe le partite, il Catanzaro magari ne avrebbe potuto approfittare, avrebbe potuto superare i Grigiorossi. E il quarto posto è molto differente rispetto al quinto. Perché? Perché il quarto in classifica, i play-off, salto un turno, è direttamente qualificato alle semifinali. Quindi, sinceramente, con il senno del poi, è un'occasione clamorosa, sprecata, da un calciatore che, ovviamente, il primo ad essere rammaricato è probabilmente lui, perché anche per stoppa stesso avrebbe significato tanto, avrebbe significato sbloccarsi, probabilmente acquisire anche quella fiducia, perché comunque era uno dei primi cambi, ha giocato anche qualche partita titolare nel giorno d'andata, poi si è lentamente perso, avendo sempre meno minutaggio, perché poi sulla linea di destra, ovviamente, i titolari erano solo una sedd'Andrea, lui era più che altro, e più che altro sarebbe la riserva di Van de Putt, è chiaro che con la stagione finita per D'Andrea, ed è un peccato per il Catanzaro, è una brutta perdita, una brutta tegola, è chiaro che stoppa diventa probabilmente la prima riserva sulla fascia, e quindi sarebbe stato importante anche per lui. Non voglio dire che la parete si è giocata soltanto lì, perché le occasioni l'ha avuto il Catanzaro nel primo tempo, l'ha avuta la Cremonese nel primo tempo, strepitosa, straordinaria la parata di Folignati su Piccolo, è una parata da vedere e rivedere in controtempo, allungandosi dall'altra parte con il braccio, è veramente qualcosa che, rivedendola, è una parata straordinaria, non mi vengono altri termini, è un miracolo, forse, non voglio esagerare, è la parata dell'anno, e se non è la parata dell'anno, poco ci manca in tutta la Serie B, anche per il coefficiente di difficoltà. La Cremonese, poi, ecco, il secondo tempo, dopo un primo tempo in cui si era rivisto un po' una sorta di Catanzaro-Como, con il Catanzaro sicuramente meglio della Cremonese, e ripeto, la Cremonese comunque le seppalle gole le ha avute, nel secondo tempo, i primi 20 minuti, è stata una sorta di déjà vu, è stata una specie di déjà vu con la parata dell'Alcomo, una Cremonese che è entrata meglio, sicuramente, nel secondo tempo, e ha avuto, forse, un miglior approccio, però, a differenza della partita contro il Como, il Catanzaro ha retto, non ha subito gol, e poi, ad un certo punto, i giallorossi hanno avuto più gamba, hanno avuto più fiato, hanno avuto anche più lucidità per cercare di portare a casa i tre punti che, secondo me, ripeto, Catanzaro avrebbe strameritato in questa partita. E' mancato solo il gol, è mancato il gol ad Ambrosino, splendida la sua cavalcata nel primo tempo, e poi, davanti a Saro, lo ha graziato, è mancato il gol a Van de Putt, è mancato il gol a un Iemmelo che, non me ne voglia il capitano, ha sicuramente disputato partite decisamente migliori sotto tutti i punti di vista, nonostante ciò, ha messo lo zampino in più occasioni, aveva liberato al tiro Van de Putt nel primo tempo, ci ha messo il suo nella bellissima ripartenza che avrebbe avuto sicuramente, avrebbe meritato maggior fortuna che ha portato al tiro Biasci nel secondo tempo, ha offerto la palla a stop al 91esimo, quindi Iemmelo sicuramente non ha fatto la sua migliore partita, però è entrato in tante palle golle, ne ha avuta una anche lui, clamorosa, probabilmente è arrivato un po' lungo su quella palla, poi c'è tutto il salvataggio sulla linea di Antov, quindi da come sto ripetendo, da come sto parlando, si denotano le tante, numerose palle golle per il Catanzaro, qui veramente è mancato solo il gol, è mancato il gol anche alla Cremonese, ha avuto un bel po' di occasioni, sicuramente forse meno nitide, c'è stata, come ho detto, la parata di Fulignati nel primo tempo, una buonissima palla golle capitata a Jonsen, sempre in chiusura di primo tempo, su un orrore di Van de Putt che invece di liberarsi dalla palla l'ha persa in una zona sanguinosa, nel secondo tempo c'è stata una traversa di Castagnetti, un bel colpo a cui destra di Zanimacchia, sempre su quei famosi cross, sul secondo palo che trovano la difesa del Catanzaro impreparata, però, ripeto, ai punti, probabilmente l'avrebbe meritata il Catanzaro. Interessante nel secondo tempo, anche se per pochi minuti, la decisione di Mister Vivarini di far giocare insieme Ghionne e Petriccione, sicuramente forse per quanto riguarda il finale di stagione ai playoff può essere un'arma anche interessante questa per il Catanzaro, due giocatori, due play, due giocatori abituati a volere il pallone, a macinare gioco e a macinare calcio. Quindi questo è sicuramente, se il Catanzaro perde da Andrea, riacquista Ghionne e metterlo in coppia con Petriccione, può essere veramente un bel centrocampo, sicuramente pochissimo fisico, però un centrocampo in grado di avere sempre il pallino del gioco in mano. Questa è stata Catanzaro Cremonese, ripeto, Catanzaro forse l'avrebbe meritata di vincere e sarebbe stata una vittoria probabilmente molto, molto importante in ottica, a questo punto bisogna dirlo, in ottica promozione, perché poi a questo punto della stagione è anche inutile nascondersi. Il Catanzaro, seppur libero di testa, ha tutte le possibilità per giocarsi alla promozione, perché se queste sono le squadre con le quali il Catanzaro deve misurarsi, sicuramente sono squadre molto più attrezzate, basta pensare che ieri poi la Cremonese ha fatto entrare giocatori come Falletti, come Coda, come Ghiglione, come Buonaiuto, quindi giocatori che sarebbero titolari dovunque, però il Catanzaro fa della sua organizzazione di gioco, del suo gruppo, del suo amalgama di squadra una forza in più in uno sport come il calcio, che è uno sport di squadra, questo può fare veramente tanto la differenza. Volevo chiudere, estraneandomi un attimo dal calcio, non tanto dal calcio ma dal Catanzaro, volendo ringraziare comunque, perché non mi aspettavo di certo di avere 500, 600, 1000 visualizzazioni, 1000 passavisualizzazioni per questi video, io mi diverto a commentare le partite del Catanzaro, è una cosa che mi piace, è una passione, è un hobby ovviamente, è una passione e mi fa piacere che comunque vengano visti questi video, poi probabilmente ci sarà video di più, video maggiori, meno visualizzazioni, però mi fa piacere che in questa stagione sin qui ci sono state parecchie, parecchie visualizzazioni in un mondo non semplice, perché poi il mondo del giornalismo, specialmente nella città in cui abito, ovviamente grande rispetto per tutti i professionisti che, per tutti i giornalisti che ci sono, però è un mondo un po' di dinosauri, mi viene in mente, è un mondo un po' di... dove si tende più che altro a cercare di dare spazio, maggiore spazio alle voci, ecco, già conosciute, riconosciute e riconosciute, dove il giovane deve faticare molto ad emergere, seppur di qualità bisogna faticare forse, forse un po' di più e forse non lo si merita, perché, ripeto, ci sono ragazzi di qualità, ragazzi che hanno voglia di emergere, ragazzi che hanno tanta voglia, ed ecco, spesso e volentieri, ad un certo punto, quando magari si è sulla voglia, anche sulla strada per fare il salto di qualità, si trovano, ecco, delle barriere che magari non sono... di certo non sono molto positive, però ognuno poi fa il suo, ripeto, Catanzaro è così come tanti altri posti, è pieno di giornalisti di grandissima qualità, di grandissima esperienza, bisognerebbe cercare, secondo me, di invogliare i ragazzi e non farli trovare, ecco, quella... quelle sorte di barriere ad un certo punto che potrebbero invece agevolare, perché poi ad un certo punto è bello anche che la persona che ha fatto tantissimo, le persone che hanno fatto tantissimo, diano spazio anche a chi ha più... a chi ha voglia di emergere. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.